VAL DI CHIANA E' così, sex symbol della VAL DI CHIANA, sex symbol del Golf Club, qua dal Golf Club VAL DI CHIANA Allora, avete già visto in alto prima le mie bellissime palline rosa, perché oggi andremo... che cosa mi insegnerai oggi Riccardo? Oggi vi insegno il approach Approach, bella questa parola già è figa di sua Allora, l'approach cos'è? E' l'approach al green Quindi sono i colpi un po' più corti Allora, i colpi più corti Si fanno o col pitch, che è quello che abbiamo usato nella prima puntata O il sand Allora, la differenza tra l'uno e l'altro è sempre l'angolazione Quindi il sand è un po' più aperto in rispetto al pitch Quindi col sand la palla si alza un po' di più, poi l'lice un po' di meno Comunque sono due bastoni abbastanza aperti Quindi anche il pitch la fai alzare abbastanza Ok, poi il sand nella realtà è stato inventato anni fa per giocare dal bunker Che vediamo nella prossima puntata Il bunker, ok Cos'è il bunker? E' dove c'è la sabbia Che impareremo la prossima puntata Che impareremo la prossima puntata Oggi si impara l'approach L'approach, va bene? Allora, tieni il pitch, prego Il pitch L'attura è sempre la stessa Quindi così Mano sinistra sopra Abbassa un pochettino Ok Chiudi un pochettino le gambe Però qui mettiamo la palla un po' più sul piedi destro Ok Le mani leggermente in avanti Ok Braccio sempre dritto Mantieni sempre il triangolo Brava Facciamo una prova prima di tirare Quindi qua Corto e corto Se spezzare questo triangolo qui Ok? Ok Facciamo una prova prima? La prima prova quando voi non c'eravamo anche andata bene No, ma prima di colpire la palla facciamo una provetta Facciamo una prova Vai Gambe leggermente flesse Brava Ok Senza abbassare Brava Bello, eh sì, va bene Facciamo l'articolo Allora vai Proviamo Guarda, qui c'è la bandiera Ok Spostati un pochettino in qua Chiudi un pochettino le gambe Brava Mani già in avanti Palla un po' più sul piedi destro E vai piano Anzi, va a prestazione Respira piano Non abbassare le gambe Non abbassare le gambe Vai Avvicinati un po' Ok Piano piano Brava Ecco Brava Un po' lunghe Eh no, ma va bene Va bene L'hai presa Proviamo di nuovo? Sì Vai Brava Oh, oggi Oggi le becco tutte Purtroppo La buca è un pochino spostata dall'altra parte Però ora proviamo Senza abbassare così Allora, per alzare la palla Noi non dobbiamo fare tipo a cucchiaio Così Però l'angolo della faccia del bastone Che la fai alzare Ok Ok Quindi te Non è che ti deve abbassare Per prenderla da sotto Ok Spito? Vai Proviamo? Proviamo Chiudi un pochettino le gambe Ok Mani leggermente in avanti Brava E via Senza abbassare Senza abbassare Vai, di nuovo Una senza abbassare Chiudi un po' le gambe Ma fa semplice il maestro Senza abbassare È facile È facile Chiudi un po' le gambe Chiudi le gambe Ok Vai Almeno le gambe erano fermi Eh va bene Facciamo così È automatico Val di chiaro Un pochettino più corto E un pochettino più corto in avanti Vai Corto dietro Corto in avanti Brava Ecco Questa era bellissima Ora sì Ora faccio io due tiri Uno col sand E uno col pitch Vedete un po' la differenza Io mi sposto Vai Vorrei entrare in traiettola Quindi il sand è quello più aperto Ok Quindi tiriamo E la palla si alza Un pochettino di più Va bene Ora col pitch Ok La facciamo un pochettino Più bassa Così Ok Quindi Allora Quando si usa uno Quando si usa l'altro Ecco giusto Allora Quando si fa il colpetto Questo però non l'ho usato Sì Questo è un po' più difficile Perché è un po' più Più aperto Quando si fa il colpetto A correre Quando te non hai Niente davanti Non hai nessun ostacolo È più facile Sempre tirare la palla Più bassa Ok Poi quando magari Ce l'abbiamo il bunker davanti O abbiamo un'acqua O qualsiasi ostacolo Usiamo il sand Anche così la palla si alza Un po' di più Ok Ok Proviamo un'altra volta Una ora col sand Col sand Proviamo col sand Vai proviamo Proviamo Prendiamo due palline Facciamo buca? Facciamo buca dai Allora dobbiamo togliere la bandierina Me l'ha insegnato te Allora la bandierina Quando siamo fuori dal green Non c'è bisogno di togliere Ah Ok Quando siamo dentro il green Da togliere Per regola Sì La devi togliere Sennò c'è la penalità Ok Ah danno la penalità Sennò 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 Io non lo sapevo Se siamo dentro il green Se siamo fuori no Ok Prova a colpire da sotto Meglio Brava Ma è troppo lunghe Un po' forte No ma va bene Almeno va stai prendendo Anche il maestro Mi sta prendendo il giro Vai Facciamo una prova Senza la palla Però è difficile Allora Trovare la forza giusta Quella è la parte più difficile Secondo me Trovare la forza Poi ci vuole tanta pratica Certo Venire qui e stare Ore e ore A provare un po' Quanto movimento Devo fare indietro Per fare tot distanza Quindi Se io magari Alzo il bastone fin qua E vado in avanti Faccio che ne so 50 metri Se alzo un po' di più E vado in avanti Faccio 70 metri Quindi Si regola un po' In base a quanto movimento Dietro lo fai Ok Vai proviamo di nuovo Quel stand Ora si alza Questa palla Questa si alza Spero Ragazzi io ce la metto tutta Non lo so se si alzerà Vado eh Vai Brava Si è alzata un pochettino Però mi so piegata Eh lo so Lo so Un'ultima Dai Facciamoci un'ultima 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 Poi fai te buca E Diamo appuntamento Alla La pagina Per provare Il pitch and send Il pitch and send Sul pitch and send Dov'è la pallina? È qui È qui Vai Prova a tenere il colpo fermo Colpo fermo Solo con le spalle Molto meglio Stavo prendendo Ho visto Ho visto Quasi ha preso Francesco Però va bene Bene Va bene Ma non benissimo Però meglio Della prima puntata No voglio dire Ma vedi Ogni lezione impari Certo Quindi è importantissimo Venire Praticare Fare lezioni Quindi Sai Hai visto già La prima La prima Non prendevo neanche la pallina Già Sto migliorando tantissimo E sto vincendo la mia sfida Con Handicap Zero Ecco Forse Finestate Finestate L'anno prossimo però Allora In chiusura Vediamo Riccardo Che farà un colpo perfetto Perché Dobbiamo fare buca anche oggi Vai Noi vi diamo Tra pochissimo Appuntamento Sempre qua Al Golf Club Valdichiana Ci spostiamo nel nostro salotto Con tanti ospiti E tante storie Ciao E venite Venite al Golf Club Valdichiana Per provare Venite a provare Ciao Quasi Toglio la bagnerina Non ce l'abbiamo Va bene Ma possiamo Dobbiamo fare quel pitch Perché non ce l'ho io Ah troppo pochissimo Ah troppo pochissimo Valdichiana Dal Green Al nostro Al nostro salotto Al nostro salotto Con Tanti ospiti Anche quest'oggi La nostra puntata Di Giardino Valdichiana Qua in diretta Dal Golf Club Valdichiana È ricchissima di ospiti E parleremo di tanti argomenti Da teatro Allo sport Al centro ippico Avremo insomma Tanti tanti argomenti Di cui parlare Quest'oggi E vi vado subito A presentare I primi ospiti Che sono venuti qua A trovarci Al Golf Club Loro sono Tre interpreti Che fanno parte Sono di uno spettacolo Del cantiere internazionale D'arte di Montepulciano Che partirà Il prossimo 12 luglio E andrà avanti Fino al 29 Di luglio Nella fantastica Cornice Di Piazza Grande Di Montepulciano E coinvolgerà Tutta Tutta la Val di Chiana Il tema di quest'anno Scelto dal cantiere È Vita, Morte E Meraviglia Si alterneranno Quindi andranno In scena Più di 50 appuntamenti Tra opera Teatro musicale Danza Performance Musica da camera Insomma Cultura A 360 gradi E coinvolgerà Tante tante arti Qua Abbiamo Gli interpreti Dello spettacolo L'impresario In angustie Giustissimo E vi passo subito A presentarli Qua vicino a me Ho Cristian Gianmarini Attore Che però Interpreta Un regista Poi dopo Andremo a capire Qualcosa in più Dioclea Che interpreta Invece Fior di Spina Soprano Arriva direttamente Dall'Albania Dal Kosovo Perché Proprio per sottolineare Questa Internazionalità Del cantiere Perché veramente Arriveranno in Val di Chiana Tante stare internazionali E poi abbiamo Stefano Bernardini Conosciutissimo attore Locale Proprio perché Il cantiere Alterna questa Internazionalità Agli attori locali E lui Lui è attore Attore che fa In persona L'attore Allora Cristian Prima di andare Nello specifico Nel tuo personaggio Parliamo di questo Parliamo di questo Spettacolo La regia È di Caterina Panti Liberovi Ci Giusto E è un'opera Di Cimarosa Sulla disfatta Del teatro Parliamo un po' Della vicenda Prima Del tuo personaggio Va bene Allora La storia racconta Di una compagnia Di artisti Che tenta Di mettere in scena Uno spettacolo E non ci riesce Non ci riesce Per una serie di Situazioni Di capricci Capricci Delle prime donne Rivalità Insomma Difficoltà economiche Dell'impresario Che cerca di mettere Insieme La compagnia Rivalità Tra poeta E musicista Perché ovviamente I personaggi Non siamo solo noi tre Giusto Insieme a noi In scena Ci sono Altri cantanti Soprattutto E poi c'è Il maestro di musica Quindi il compositore E il poeta Che scrive il libretto Quindi è proprio In realtà È teatro nel teatro No? È una compagnia Che sta tentando Di mettere in scena Uno spettacolo Non ci riesce Perché ci sono Sia delle difficoltà Personali appunto Come rivalità Eccetera così Che è proprio Difficoltà economiche Quindi in effetti Pur se è una cosa Di duecento anni fa Vediamo È molto attuale Tutto sommato Molto attuale Io ovviamente Io faccio il regista Nello spettacolo Ma non sono il regista Questo personaggio Non esiste Nell'opera originale Di Cimarosa È un intervento Voluto da Caterina Pantiliberovici Dalla regista Che ha sentito La necessità Di in qualche modo Scardinare Un'opera Che risentiva Dei suoi duecento anni Inserendo Delle parti Prese da Pirandello Dal dottor Incus di Pirandello E inserendo All'interno dell'opera La figura La figura di questo regista Che cerca di portare avanti Una sua poetica Un Incredo forte Nella possibilità Che l'arte Si possa comunque Continuare a fare Nonostante Tutte le difficoltà Ma Farà molta fatica Perché davanti ai suoi occhi Appunto ci sono Tutta una serie di Interessi Bassezze Umane Per quanto umane E anche molto Condivisibili E Così Insomma Riconoscibili In ognuno di noi Che metterà a repentaglio La possibilità Che l'opera Venga poi rappresentata Quindi come dire Questo regista È un personaggio Che parla Io sono un attore Non sono un cantante E Che interviene A Cercare Per cercare Di portare avanti Una situazione Che Traballa Costantemente E Che continuerà A traballare Fino Fino alla fine L'opera è un'opera buffa In realtà È previsto Che sia un'opera buffa Nella nostra versione Proprio perché Caterina Liberovici Pensa Fortemente Che non sia Possibile Questo lo dice lei Quindi lo riporto Che non sia possibile Forse Ai nostri tempi Di Ridere Su una situazione Che in realtà È molto drammatica Perché c'è tanta gente Che sta a casa Che non lavora Teatri che chiudono Produzioni che saltano E artisti che stanno a casa Quindi c'è poco da ridere Per cui Ovviamente Non Tradendo completamente La matrice Di opera buffa Di Cimarosa Però Ecco Lo spunto di riflessione Sarà molto Più forte Meno leggero Meno di intrattenimento Come Potrebbe essere Insomma Più profondo Ecco Diuclea Tu fai Fior di spina Soprano Sì Raccontaci il tuo personaggio E soprattutto La tua carriera Anche Te come soprano Non come rosa spina Ma come soprano Allora Fior di spina Da come Ha già raccontato Cristian Dall'opera Come era Non dal nostro punto di vista È semplicemente una prima donna Che lotta con le altre È più leggera come personaggio Invece Con Dal punto di vista Di Caterina Questo personaggio Prende un altro Un'altra importanza È una donna È un artista Che veramente Ricerca continuamente Questo teatro E non vuole smettere Di fare teatro Cioè Lei veramente Crede Nonostante tutto Nonostante tutto Lei crede Che questo teatro Non Cioè Non finisce Questo teatro Deve andare avanti Infatti È molto triste La situazione Di questi giorni Che i teatri Hanno Veramente Lo sappiamo Lo sappiamo Lo sappiamo Che i teatri Non godono di ottima salute Esatto Perciò Il mio ruolo Veramente È molto divertente Specialmente Da questo punto di vista Perché È proprio Un artista È una persona Che Continua a credere Fino all'ultimo Veramente Crede Finché Rimane anche da sola Come tu hai creduto Nelle tue potenzialità Di soprano Infatti Come ho creduto io È che sono arrivata Qui A Firenze Cioè In Toscana A Firenze A studiare Dove Ho fatto anche L'audizione Per venire A cantare A Montepulciano Ed è molto bello Per me Perché È una possibilità Per noi Giovani artisti Di 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 Metterci In prova Di andare In scena Di vedere Come ci troviamo Poi è la prima volta Che faccio un ruolo Importante Perciò È veramente Bello È una sfida Per me Specialmente È una bella sfida Per me Sono molto contenta E Perciò E specialmente Perché C'è questa Regia Molto interessante Veramente Mi diverto Perciò Sono contenta Di essere qui Stefano Tu invece Interpreti Strabinio Strabinio Oltre al tuo personaggio Però ti voglio chiedere Come ti trovi A recitare A rapportarti Con ragazzi Che arrivano In Val di Chiana Da tutta Europa Possiamo dire Precediamo intanto Che non è la prima volta E questo è proprio Il cantiere Il cantiere Ha dato la possibilità In più di un'occasione Da sempre La sua matrice Più importante Quella appunto Di poter Coinvolgere Le forze locali In progetti Che poi vedevano però Come protagonisti Dei professionisti Che fossero Registi O altri attori Oppure direttori Di orchestra E questa magia Diciamo si ripete Regolarmente ogni volta Che viene allestito Uno spettacolo All'interno del quale C'è la collaborazione massima Fra appunto Il professionista esterno E le forze locali Coloro che in qualche modo Si dedicano Più o meno Professionalmente Perché anche Magari se rimane Semplicemente un hobby Come può essere per me La possibilità Di mettersi in gioco Con compagnie Di professionisti Con esperienze Quindi più Vicine a una realtà Attoriale O musicale Seria È francamente Molto stimolante Quindi anche in questo caso Per quel che riguarda Questo allestimento Di quest'anno Ci sarà L'orchestra poliziana Che sarà la parte musicale Diretta da Roland Börr Però Quindi dal professionista Sul palcoscenico Per il momento Ci sono Quest'anno almeno In questa occasione Ci sono soltanto io Come presenza locale Che fa Che tiene vivo Questo collegamento Fra la tradizione Appunto del cantiere Che è questa Strabinio in realtà Peraltro è Il contraltare Di Cristian Quindi Colui che viceversa Vorrebbe dimostrare Che per poter portare avanti L'attività teatrale L'unico sistema È quello di piegarsi A delle regole A delle leggi Abbastanza basse E così commerciali Per poter ottenere Minimamente Un po' di successo Di soldi E di visibilità E quindi non Dover mai sottostare A altri tipi di interessi O a un teatro Di un'altra portata Di un'altra valenza Quindi Abbassarsi A dei compromessi Permetterebbe In questo caso Di portare avanti Anche il teatro Altrimenti Siamo costretti A chiudere A fallire Quindi Alla fine Funzioniamo appunto Al contrario Ecco Ritorno proprio Su Cristian Proprio su questa Su quest'ultima tua parte Nella vita reale Secondo te Per rilanciare Comunque Il teatro E tutto il resto Bisogna scendere A compromessi O dobbiamo sempre Tirare Alla qualità Allora Eh boh Questa è una domanda Mi viene da dire subito No assolutamente no No Nonostante i miei 46 anni Poi quando si è giovani A 20 A 30 C'è ancora Quella cosa Questa onestà Intellettuale Che ti pervade Credi Ancora Ma io ci credo Tuttora E appunto Il mio personaggio Appunto Si scontra Con le tentazioni Diaboliche Di Strabinio Che gli dice Ma pensa a fare Una cosa Di intrattenimento Così il pubblico Si diverte Gli fai due balletti Di cose Invece che raccontare Una storia Che abbia Una levatura morale Insomma Ma io credo Voglio ancora sperare Che tutto sommato Insomma Si possa riuscire A fare teatro Mantenendo alta Il messaggio Appunto Forte Che è quello Dell'arte Che non è certo Una cosa Che serve solo A intrattenerci Ma Probabilmente A farci riflettere A farci riconoscere Farci crescere E tutto Del resto Il teatro nasce Come specchio Della società Se pensiamo A quando è nato il teatro La gente si ritrovava Per Vedere Vedersi Riconoscersi Giudicarsi E cercare di migliorarsi Non certo Per Così Sollazzarsi E basta Quindi Questa è la tua prima esperienza Al cantiere? Si Che cosa ti aspetti? Devo dire Quello che mi aspettavo L'ho già trovato Cioè veramente Mi piace questo nome Cantiere Dell'arte Cantiere internazionale E ho trovato subito Fin dai primi giorni Che è veramente un cantiere Nel senso più bello del termine Ci sono tante professionalità Tante generazioni Tante età di artisti A confronto Sempre a contatto Che lavorano insieme Con grande Grandissima generosità Da parte di tutti E grandissima passione Ed è per questo Che riferendomi anche È la domanda Che mi ha appena fatto Credo Che l'arte Che il teatro Che la musica Che l'opera Vincono E continueranno a vincere Per sempre Dioclea Io ti voglio fare Tu sei giovane Hai insomma Una bella esperienza Il cantiere Che cosa vorresti dire Ai ragazzi Che forse magari Sono anche un po' Demotivati A prendere la strada Intraprendere la strada Di soprano Di attore Che cosa ha un messaggio Ai ragazzi Che vorrebbero Intraprendere la vostra Stessa strada Prima di tutto Stefano Invece Tu in chiusura Hai detto Che comunque Hai fatto tanti cantieri Hai preso parte A diverse edizioni Ricordo che questa È la 43esima edizione C'è uno spettacolo Che ricordi In particolar modo? Sì per forza Perché ero un po' Il protagonista Quindi per forza Di cose Don Giovannino Si parla però Dell'86 Una cosa del genere Quindi era un po' Lontano nel tempo Sì lo ricordo Con tanto affetto Con tanta soddisfazione Che cosa ti ha lasciato Per l'espettacolo? La voglia più o meno Di fare esperienza Di fare esperimenti Di mettersi in gioco Di non fare cose scontate Di ascoltare Di imparare Dalle persone Che il cantiere ti metteva A disposizione Perché è stata veramente Una ricchezza enorme Per tutti quelli come me Che avevano voglia Di fare qualcosa Avere questa possibilità È stata veramente Una chance unica Quindi questo E allora Appuntamento con L'impresario di Angusti Il 13, 14 e 15 di luglio Al Teatro Poliziano A Montepulciano Invece con tutto Il cantiere internazionale D'arte Dal 12 al 29 luglio Ricordiamo che Il cantiere internazionale D'arte È una manifestazione Ideata da Hans Verdenhens E per la direzione artistica Di Roland Boer E quindi Si dice Merda, merda, merda Ragazzi Grazie a tutti i miei ospiti Che sono venuti qua A trovarci Non abbiamo forse tempo Però ovviamente Ringraziamo Ringraziamo Tutti gli attori Sì Tutti i nostri Velocemente Compagni Non c'ho gli occhiali Faccio io Faccio io Allora Silvia Lisce Giannolla Vittoria Licostini Francesco Samuele Venuti Claudio Miugnaini Claudio Zazzaro Cristian Gail Fe... 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 In diretta ancora dal Golf Club Valdichiana Con un nuovo ospite Diego Mancuso Giornalista e telecronista sportivo Allora Giornalista Mi piace moltissimo Giornalista Parliamo di comunicazione sport Però una domanda te la butto subito là Visto che in queste ore Stiamo attendendo una notizia Noi Juventini da Torino CR7 alla Juve Te la passo Noi ci auguriamo che la notizia non arrivi Da giornalista e da interista Ok Allora hai rivelato anche la mia fede calcistica Da interista posso continuare a sperare che la notizia non arrivi Da irriducibile Diciamo tifoso di una rivale della Juve Anche se voi Juventini dite che non avete rivali Noi non abbiamo rivali In realtà non lo posso sostenere Da giornalista sportivo devo dire che la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la rovesciata Che Cristiano Ronaldo ha fatto allo Stato di Torino Alla Juventus Chi se la dimentica Non solo perché fu un momento di autentica Pura gioia e soddisfazione Ma anche perché la reazione dello Stato di Torino fu veramente da pelle d'oca Si alzarono tutti Molti si alzarono in piedi E applaudirono quel gesto atletico straordinario Auguriamoci quindi che in quella circostanza CR7 abbia esaurito Il suo repertorio di gol spettacolari Si fermi lì Se andrà alla Juventus Noi Juventini invece ci auguriamo di vedere ancora Faccia cose madeste Non è che potrà diventare in un attimo un brocco Ma insomma che torni a un livello più terra terra Noi speriamo il contrario Comunque Diego Allora Giornalismo Comunicazione e sport Noi con la Valdichiana stiamo raccontando varie realtà locali Dal punto di vista delle storie Secondo te è più giusto parlare di sport con le semplici telecronache Oppure raccontando proprio le storie Andando proprio a cercare i personaggi, la storia Insomma farci capire un po' tu come vedi questo giornalismo Guarda io andrò un po' controcorrente Forse perché sono legato a una visione pura della nostra professione Del nostro mestiere Il giornalismo va a caccia di notizie Quindi quello che io mi aspetto da un'attività giornalistica Nello sport è la notizia Prima della storia Tra l'altro lo sport in sé è un'attività essenziale È una sfida dalla quale scaturiscono un vincente e un perdente Quindi non c'è bisogno di tante parole per raccontare lo sport Ora siamo invece nell'epoca dello storytelling Tutto è narrazione E fa narrazione anche chi per la verità non la sa tanto fare Forse perché si ha l'impressione che sia più facile fare storytelling Che non giornalismo Ecco dal giornalismo sportivo io mi aspetto, ripeto, la notizia Che non sia annegata in una marea di parole Che qualche volta poi rischiano di apparire noiose o inutili Io per l'informazione sportiva mi atterrei proprio alla sua essenza Non nego poi che lo sport proprio per quello che rappresenta Per le vicende lungo le quali si ripana Si presta moltissimo al racconto della storia e quindi allo storytelling Non dimentichiamo che in Italia lo storytelling è arrivato con ritardo Viene dagli Stati Uniti dove era addirittura adottato prevalentemente Per le aziende quindi a tutt'altra natura Ora è un po' inflazionato Tutti raccontano storie D'altra parte se Federico Buffa di Sky o anche Giorgio Porrà Ricordiamoci che Federico Buffa era un esperto di contrattualistica di calciatori Quindi del calcio è uno degli aspetti più freddi e più formali È diventato un grande raccontatore di storie Anche se ce lo possiamo dire Non è che abbia una presenza eccezionale e non una voce meravigliosa Però quella capacità di raccontare le cose su quelle ci ha costruito la svolta della sua carriera E addirittura gira i teatri raccontando storie di sport E veramente ci dà i brividi Anche perché lo sport ripercorrendo anche solo la storia delle Olimpiadi Ma anche vicende semplici di sport locale Veramente presenta tantissimi aspetti Io direi che vanno tenuti distinti i due campi Non lo voglio fare neanche troppo lunga Da una parte il giornalismo sportivo Quindi c'ha bisogno di tutte e due Sì esatto infatti In realtà non si fa una scelta Ma non devono però confondersi Non devono sovrapporsi Perché altrimenti c'è il rischio anche di confondere le idee a chi ascolta Senti Sì dopo 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 Non ci spoileriamo gli argomenti Via Allora ci chiedono Visto che tu sei la voce storica del bravio Io sto imparando Io sto imparando Ancora le telecroniche non mi ci diletto Perché non saprei da che parte farmi Ci chiedono subito così a bruciapelo Una previsione per il bravio 2018 Allora una previsione che è estremamente difficile da fare L'anno scorso Ne so qualcosa Ne sai qualcosa Puntovamo su Voltaia E il pronostico fu pienamente rispettato Quest'anno con il grande Attila Che starà a fermo un anno In applicazione del regolamento del bravio Di scoppiamento dopo un certo numero di vittorie Quindi con formazioni completamente rinnovate Le carte si potrebbero rimescolare Ci sono stati tanti cambiamenti clamorosi Un spingitore storico di Gracciano Bondi andrà a spingere appunto per Voltaia Affiancato da uno dei giovani di Contrada Gambacciani molto probabilmente Si proporrà la magnifica coppia di Collazzi Con Giacomo Valentini Che potrà spingere insieme a Luca Benassi Quindi diciamo che è un pronostico più aperto del solito Dal quale potrebbero scaturire anche degli outsider Quindi potremmo vivere Uso il plurale Anzitutto a me e a te Un bravio particolarmente divertente E' incerto Già sentiamo l'atmosfera Perché a Montepulciano arriva Assolutamente sì L'eco dei tamburini che si allena E quello già ci dà i brividi Anche perché io ho già vissuto Le dame della Botti e piccoli spingitori Quindi io sono già in clima bravio da due mesi È vero A proposito di pronostici Il bravio 2018 è incerto Ma anche i mondiali 2018 sono incertissimi L'Italia che non c'è La Germania che è uscita all'inizio La Spagna, la Francia Non so Siamo in diretta Non so che avrà fatto la Francia La Francia ha appena battuto l'Uruguay Perfetto Si è qualificata per le semifinali Se il Belgio riuscisse nell'impresa Questa sera di battere il Brasile Ci sarebbero quattro europee in semifinale D'altra parte Quest'anni mondiali sono nel continente europeo Quindi tutto sommato Potrebbe essere anche una soluzione Non clamorosa Certo che il Belgio riesca a battere il Brasile Sarà molto difficile E il pronostico anche qui è un po' complicato Anche perché sono uscite delle grandi È uscita la Spagna È uscita l'Argentina Quindi si sono rimescolate le carte Certo questi mondiali Dal punto di vista della comunicazione sportiva Stanno piacendo molto Perché c'è una media di telespettatori Di 4 milioni a partita Contro i 3 milioni e mezzo Dei precedenti mondiali In cui c'era l'Italia Che alzava molto la media Pensiamo che Nella storia della televisione Di 50 eventi televisivi più visti in Italia 49 sono partite E 32 sono partite dei mondiali Ti sfido a indovinare Qual è il cinquantesimo evento più visto Della televisione italiana Il Festival di Sanremo Bravissima Complimenti a Valentina L'anno in cui vinse Giorgia Il Festival di Sanremo Totalizzò un record di ascolti Ed è l'unico evento non sportivo Nei 50 più visti alla televisione Mediaset per prendere i mondiali Ha speso 70 milioni di euro Già si parla di introiti pubblicitari Per 80 e forse potrebbe arrivare a 100 Proprio per la forza dell'audience Quindi nonostante l'assenza in Italia Che è costata 100 milioni di euro A tutto il sistema calcio Nonostante l'assenza in Italia I mondiali piacciono E stanno viaggiando Perché? Poi perché facciamo questi discorsi? Perché il tema che tu mi hai proposto È comunicazione sport Che in questo momento vuol dire Moltissimo televisione Televisione Infatti la mia domanda Che ti volevo fare C'è stata un po' di preoccupazione Per questo 90esimo minuto Questa trasmissione storica Che rischia di non andare in onda più Sulla Rai Possiamo dire che è anche Una cosa storica Perché 90esimo minuto Possiamo dire che la Rai È quasi nata con 90esimo minuto 90esimo minuto Ha sdoganato un certo modo di raccontare Veniamo sul tema del raccontare Il calcio Che prima era limitato Al solo tempo di una partita In televisione Che iniziava alle ore 19 I secondi tempi alla radio A tutto il calcio Minuto per minuto E quello era dato di sapere Ora il calcio viene Vivisezionato Scanzionato Minuto per minuto Secondo per secondo Negli spogliatoi Il timore di perdere Il 90esimo minuto Era una sorta di Svolta addirittura Nell'informazione sportiva Ecco Alla fine Sky e Perform Si sono aggiudicate I diritti Della Serie A Per quasi un miliardo Di euro all'anno La Serie B Se l'ha aggiudicata Perform Per 22 milioni di euro All'anno Quello che è clamoroso È che il Giro d'Italia Il Giro d'Italia Che è una delle trasmissioni Più belle Che si possono vedere In televisione Perché ci mostra La bellezza dell'Italia Filtrata attraverso Un grande evento sportivo Costa 25 milioni di euro All'anno Che la Rai Versa A Rizzoli Corriere la Sera La Gazzetta dello Sport E l'organizzatore del Giro Quindi pensate Che squilibrio Cioè il calcio Domina la scena Con cifre pazzesche Forse anche per questo La Juve Si può permettere Di spendere 100 milioni di euro Per Cristiano Ronaldo Altri sport Che entusiasmano il pubblico Però sono lontanissimi Dalle Dai risultati Che raggiunge il calcio Quindi insomma C'è un po' di sproporzione Che fa soffrire Gli appassionati di altri sport Di Tiger Woods Ne nasce uno ogni tanto Non per niente Noi siamo qua Al Golf Club Val di Chiana Dove io mi diletto Nelle mie lezioni Di golf Che sto migliorando Dicono che sto migliorando Ma ancora ce ne vuole Poi darai ripetizioni Sicuramente Sicuramente A tu Farò un grande evento Per la stampa Tu hai giocato mai a golf? No Devo dire la verità Non l'ho mai giocato Non ci ho neanche provato Pur essendo un grande appassionato Di mini golf Che è tutta altra cosa Mi hanno detto che è tutta altra cosa Ti ho detto che è tutta altra cosa Però diciamo In comune ci sono solo Quelle quattro letterine Senti però Tu sei telecronista Di motocross Sì Ecco Com'è nata questa tua passione È passione Ma anche lavoro È stata passione È stata anche Professione E per alcuni anni Insomma è stata la mia attività principale Non so come sia nata Anche perché nella mia famiglia Non c'era nessuno Né appassionato di moto Né che andasse In moto Insieme al calcio È stata la mia prima passione E poi l'ho potuta seguire Un po' di motocross L'ho fatto Devo dire Senza grandi risultati Anche come giornalista Insomma È quella per esempio Una di quelle specialità Di nicchia Che soffrono Eh la rincorsa Rispetto agli sport Agli sport principali Il motocross Il motocross gode di spazi Possono scoprire Possono scoprire paesaggi Come anche mondiali di Russia Comunque promuovono il territorio Sport come motore Per la promozione del territorio Ah sì assolutamente Tra l'altro la regione toscana In questo momento Ci sta appuntando molto Al turismo sportivo Noi abbiamo dei riscontri Di pura esperienza Vediamo come I flussi turistici Possono essere regolati Anche dallo sport Sia ospitando eventi Che quindi attirano Gli appassionati Sia mettendo a disposizione Impianti e attività sportive Dei turisti Quindi per esempio In zone come la nostra La mountain bike O anche la e-bike Elettrica Possono rappresentare Un ottimo motivo di richiamo Insieme a una rete Di impianti sportivi Molto valida E molto funzionale Allora Diego Io ti ringrazio Per essere venuto Qua al nostro Golf Club Io e te ci rivediamo Al Bravio Molto presto In un'altra piattaforma Ma sicuramente Anche sulla valdichiana Punto it Comunque anche lì C'è una Una nota sportiva Forte Sì assolutamente Perché il Bravio Lo vince il più forte Il più bravo Lo dice la parola stessa Non è mai stato vinto Per un colpo di fortuna Quindi Rientriamo completamente Nel campo sportivo Cioè il Bravio Possiamo dire Che Abbraccia tutti gli aspetti Dalla storia All'enogastronomia Allo sport Appunto Ma la domenica alle 19 C'è spazio solo per quella sfida C'è spazio solo per quello 26 agosto 26 agosto Mi raccomando Tutti sintonizzati Su Valentina E Diego Mancuso Facciamo rete a noi Rete a parte Facciamo Allora Pubblico Rimanete là Tra pochissimo Torniamo Con una sorpresa Per voi A tra poco Ancora in diretta Con un altro ospite Qua Da Golf Club Valdichiana Per la nostra Quarta puntata Di Giardino Valdichiana Allora Dopo aver parlato Di comunicazione Sport Parliamo di musica E lo facciamo Con Laura Falcinelli In arte Laura Laura Allora Lei è stata definita A un certo punto Mi si intreccia la lingua È stata definita Lei un po' Si emoziona Mi ha detto di non dirlo Ma io lo dico Perché è stata definita Il talento italiano Che ha conquistato Il mondo La voce italiana Neo Soul Più interessante Allora Tutti imbarazzi Però effettivamente Possiamo dire Che è vero Ma Questo è un titolo Di un giornale Che in realtà Quando ho visto il titolo Mi sono un po' Impressionata Perché chiaramente È un titolo ad effetto Di voci bellissime Ce ne sono tantissime Io sono una cantante Una cantautrice Poi Sulla voce Giudicano gli altri Ecco diciamo Allora Tu inizi La tua carriera Da cantante Giovanissima Con Intraprendendo Una Una strada Un po' Diversa dal solito Tu ti sei avvicinata Fin da piccola Alla musica nera Perché Questa strada E soprattutto Come sei riuscita A portare avanti Questa tua passione In questa musica particolare Per il nostro territorio Sì dunque Non si sa Perché ti nasce una passione Io Già a 16 anni Ero a Londra E poi a Brighton A cercare I gospel Perché non era Una cosa conosciuta In Italia Cioè comunque Non era così frequentato E io avevo Questa grande passione Per la musica nera Per il ritmo Per il funk Per il blues Il soul E mi sono andata A cercare I mondi Per contaminarmi In qualche modo Ma lo facevo Veramente in maniera Così fresca Come fanno i ragazzi A 16 anni Come fanno Gli adolescenti Che hanno una spinta E la seguono Allora Tu Prima esperienza Un'esperienza a Starremo Nel 2000 Che esperienza è stata E come ci sei arrivata Ma io da indipendente In realtà Bella Perché mi stavano Diciamo Osservando due case discografiche Di Milano Una di queste Che mi ha Praticamente Fatto conoscere Un produttore Che mi ha presentato Un singolo Che aveva scritto E io ho accettato Di cantarlo E da indipendente Sono entrato Ho passato tutte le selezioni Di cui una Alle 8 di mattina Roma L'ultima Alle 6 camminavo In giro per Roma A fare vocalizzi Tipo una pazza E poi sono andata Ho cantato E mi hanno preso Tra l'altro In giuria C'erano due Meravigliosi Bacalo E anche Bardotti Che mi fecero i complimenti Io questa cosa Me la ricorderò sempre Perché insomma In giuria C'erano due numeri Uno Stratosferici Senti Tu oltre a questa esperienza Che cosa ti ha lasciato Questa esperienza? Mi ha lasciato Il fatto che Per fare una produzione Tu non puoi essere da solo Ma devi avere dietro Anche una struttura Che ti supporta Perché noi sappiamo Che anche tanti talenti Adesso Ragazzi hanno poco spazio E se non hanno Una visibilità Fanno molta fatica Tant'è che adesso Ci sono soltanto Pochissimi Diciamo Spazi Talent Eccetera Per emergere Oppure si fa la musica Indico Grande fatica Perché Tanti bravi E però Cosa ne pensi Dei talent? Formano Veramente Danno delle formazioni Interessanti Ai ragazzi Oppure Magari Un artista Potrebbe provare Altre strade Ma niente Sostituisce la gavetta Niente sostituisce L'istinto Il talento Niente sostituisce La volontà Però È ovvio Quello È ormai Una Diciamo Una struttura Che si è consolidata Io in questo momento Preferirei altro Anche Perché si Diciamo che si Incancrenisce In una formula E non lascia spazio A qualche artista Che ha Un modo di porsi Diverso E si rischia un po' L'omogolazione Omologazione Esatto Mi veniva la parola Senti Tu hai lavorato E hai collaborato Con grandi nomi Della musica Sì Dicci qualcuno Perché veramente La lista era lunga E soprattutto Se c'è uno In particolare A cui sei più legata E che ti ha insegnato Di più Possono essere anche Due diversi Beh dunque Tantissimi Si parte da Biagio Antonacci Negrita Max Weinberg Con Roy Bittan Non lo so Mi viene in mente Beh ho fatto una turnia Privo I concerti Giovanotti Con una cantante La medica Però quello che Praticamente Con cui ho fatto Più musica E tutto È Francesco Rossi Che è un produttore Internazionale Con cui ho scritto Tanta musica Con cui collaboro Adesso abbiamo Prodotto una cantante Americana Kimberly Glennie E Stratosferica Una voce paziente Lei è veramente Una brava parecchio E ecco Tanti Tutti mi hanno lasciato qualcosa La mia insegnante La Slasca Tascova Paoletti Che è una grande cantante Che abita ad Arezzo Cante lirica Cioè Tutti ti contaminano Certo È normale Incroci gli artisti E funziona così E Un disco di contaminazione Possiamo definirlo così È il tuo disco Origine Parlaci di questo disco Dei brani Soprattutto anche come nascono Le tue Le tue canzoni I tuoi brani Questo è un disco Che ho scritto Insieme a tanti componenti Perché Francesco Rossi Ha scritto con me alcuni pezzi Poi è entrato nel disco Gezzisti Ci sono gezzisti Pazzeschi Che suonano Cantanti Rapper È un disco molto contaminato Del 2012 Che è proprio avanti Perché Parte È un viaggio musicale Dal jazz Al reg Al funk Per cui Sono orgogliosa Perché suona molto attuale Non per merito mio Ma per merito del produttore E È un bel lavoro Faticoso Però è un bel lavoro Senti Tu hai avuto anche un'esperienza interessante Sei passata dall'altra parte della catreda Possiamo dire così In un programma che abbiamo visto su Teletruria Bonus Track Che esperienza è stata quella? Beh è molto interessante perché Sono passati molti artisti Molti ragazzi Giovani E la giuria era composta da Grandi personalità Perché c'era Fabrizio Simoncioni Rognaietti Poi c'era Il nostro meraviglioso bassista Lo possiamo dire no? Regista Ti richiamiamo in ballo anche oggi Francesco Paterni dei Latting C'era Francesco Paterni alla regia Per cui diciamo Tanti tanti artisti che hanno collaborato insieme Per giudicare una parola forse sbagliata Per suggerire delle cose a dei ragazzi più giovani Che iniziavano Che perlomeno hanno Credo spero Ascoltato delle esperienze Questo è stato molto importante Poi la regia era pazzesca Perché avevano un impianto Di lavoro enorme Era veramente un gran lavoro Non sembrava un lavoro Sembrava un lavoro professionale Da Rai Il nostro registro non delude mai E' per questo che l'abbiamo scelto Anche per la Val di Chiara Esatto Senti Quindi in questo programma Si sono alternati Molti giovani artisti Chi è alle prime armi Chi magari Era già un pochettino più avanti Come ti sembra La scena musicale Italiana ed internazionale E le differenze che ci sono Dunque Le differenze sono che nel mondo C'è tanto mercato E l'Italia è molto piccola Il mercato Perché per esempio Se uno potesse parlare in spagnolo Avrebbe Il mondo latino americano Diciamo aperto Per noi è un po' più complicato Siamo una piccola nazione Pochi spazi Un po' tutto un orticello privato Eccetera Per cui Escono fuori adesso Tutti questi rapper Della trap Che sono Che ne pensi Di questo nuovo genere Di musica Che a volte può sembrare Anche un po' strano Ma senti Io non sono contro Perché a parte Che c'è una base di musica black Che è comunque nel groove E poi è un movimento Culturale Ora La sto proprio Facendo un iperbole Però Miles Davis Negli anni 90 Ha fatto dei concerti Ha fatto dei dischi Con dei rapper E voglio dire Chiaro che adesso Noi filtriamo tutto In maniera La semplifichiamo Certo Però da cose Anche così Diciamo naif Possono nascere Dei movimenti culturali Io non sono contro Assolutamente Anzi Sono incuriosita Senti E adesso E adesso io produco Appunto questa cantante americana Con Francesco Rossi Faccio molte date E sto preparando Delle nuove produzioni Anche con Arturo Magnanenzi Lorenzo Cardetti Abbiamo un gruppo di elettronica Che si chiama L'Artro Project Per cui tante produzioni Molte collaborazioni E via Questa è la musica Bisogna Ci vuole una grinta pazzesca Perché non ci si può mai sedere Mai sedere Mai Abbiamo sempre bisogno di progetti Nuovi Sì Poi bisogna crescere Non c'è un'età Per la musica Io quando Alle volte sento Dei ragazzi giovani Che mi dicono Eh ma io sono C'ho 30 anni E qualsiasi cosa che tu fai Tu sei un artista Tu non hai un'età Tu devi essere libero Gli artisti Ti sono coraggiosi Gli artisti sono liberi Per cui A qualsiasi ragazzo Che gli dicono No ma tu sei oltre C'hai un'età No mai Un artista Non si deve mai far giudicare Per l'età E questo lo dico Perché io sono grande Perché sono un'adulta Perché lo consiglio ai ragazzi Di non fermarsi Su concetti Che non hanno niente a che vedere Con la musica Con l'arte Con la grafica Con la pittura Gli artisti devono essere liberi Liberi e coraggiosi Come sei stata tu A 16 anni Esatto Allora Laura Io ti ringrazio Per essere venuta Qua a trovare Il Golf Club Devo dire che io Ti seguivo già Da diversi anni Quindi quando Il nostro regista Mi ha nominato Ho detto no Io la devo invitare Grazie Perché veramente Sei eccezionale Ti ringrazio davvero tanto Io vi do appuntamento Tra pochissimo Con l'ultimo ospite Per questa puntata Densissima Di tante storie belle Da raccontare A tra poco Ultimo blocco Di trasmissione Qua in diretta Dal Golf Club Valdichiana Oggi abbiamo parlato Un po' di tutti gli sport E quindi Non poteva mancare Anche l'equitazione E sono venuti qua A trovarci Moira Guidarelli E da Alberto Graziani Del club Ippico Beneficio Di Rigaiolo Nel comune di Sinalunga Allora Loro ci parleranno Oltre dell'equitazione Come sport Ma ci parleranno Anche Della Riabilitazione equestre Comunemente Possiamo dire così Chiamata Ipoterapia Allora Alberto Questa bella realtà Nel nostro Era solo un centro Di Dome Addestramento Cavalli Che prendevamo I puledri Di tanti allevatori Della zona Qui della Valdichiana Poi per esigenze Sono cambiate le esigenze Del mercato E si è trasformato In un club Ippico Dove abbiamo Tanti ragazzini A scuola Con lezioni di equitazione Campi estivi E più abbiamo Dei ragazzi Che già fanno gare Gare a livello nazionale Internazionale E niente Anch'io partecipo A queste gare A livello nazionale Internazionale E questo è quanto E da tre anni circa Ci occupiamo anche Di riabilitazione equestre Con L'USD Nostra 7 E con delle altre Associazioni Dell'Aretino E Il nostro centro Si trova a Sinalunga A Rigaiolo E' composto Da una quarantina Di box Dove ci stanno i cavalli Ecco Quanti cavalli avete? Abbiamo circa Una cinquantina di cavalli Ci sono 40 Che stanno dentro Scuderizzati Più un'altra decina Che stanno fuori Cavalli giovani Fattrici Puledri Che facciamo anche un po' Di piccolo allevamento Poi abbiamo Un maneggio Esterno Di circa 60 metri Per 40 Poi abbiamo Una struttura coperta Di 25 Per 50 E Molto grande Come regalto E' abbastanza grande Si poi abbiamo una giostra Che sarebbe dove I cavalli camminano Giornalmente Più abbiamo Perché fate Anche addestramento Si Fiamo anche addestramento All'inizio Io ho iniziato Con questa Cosa E poi piano piano Sono cambiate le esigenze Un po' Gli allevamenti Della zona Hanno chiuso C'è stato un po' Di calo Nella produzione Dei cavalli E allora Ci avevo tante richieste Di persone Che vogliono venire A imparare Da noi E allora Abbiamo Creato questo Crea Bipico E ci siamo trasformati In Anche Facciamo lezioni Di equitazione Quanti bambini Più o meno Avete Avete Fate lezioni Sia per bambini Che per adulti Che per adulti Certo Quanti più o meno Ma a Fissin Abbiamo una quindicina Che montano sia poni Dai poni E poi dai cavalli E vanno avanti Poi c'erano altre persone adulte Che hanno I cavalli Scuderizzati E fanno lezioni E fanno i concorsi Regolarmente E poi abbiamo Le persone che vengono Anche in passeggiate Lavoriamo anche Con diversi agriturismi Della zona Portiamo anche clienti In passeggiata Perché nelle nostre zone Le passeggiate Sono bellissime Moira Tu ti occupi Di riabilitazione equestre Da quanti anni Fate questa attività E in che cosa consiste Lui ha detto Più o meno Ha già un po' Introdotto l'argomento Ma tu sei quella Che pensa proprio A questo aspetto Allora L'ipoterapia Comunemente chiamata Noi si è iniziata Quattro anni fa Quattro anni fa Che è un progetto Che riguarda La nostra U2-7 Che riguarda Bambini Con varie problematiche Purtroppo Che vanno Dall'autismo Alla sindrome di Down A problemi cognitivi E varie Insomma Altre patologie Sì Bravissima E questo è una Una realtà Ti posso dire Bellissima Cioè brutta Nel senso Perché questi bambini Certo Hanno purtroppo Grosse difficoltà Però bellissima Perché hanno queste difficoltà Ma dall'altra parte Hanno tanto Tanto da dare A noi Persone Normali Tra virgolette E è una cosa Una cosa Insomma Bella È una cosa Che è iniziata Nella nostra zona E venti anni fa Nel 1998 Con il Rotary Club Di Chiusi Chianciano Montepulciano Che loro sono stati Dei sostenitori Grandissimi Ci hanno creduto Tanto E ci sono Tuttora Sia loro Che la società Della salute Che l'unione Dei comuni Della Sindaci Insomma Della Val di Chiana Quindi collaborate Proprio a livello Territoriale Con la Val di Chiana Tutta Sì Con quella Usle 7 La nostra E oltre a questo Poi facciamo Anche Un Trattiamo Dei ragazzi Degli adulti Sempre con problematiche Che riguardano La zona retina Che riguarda Una struttura L'agora retina Di Arezzo E loro vengono da noi Tre volte a settimana Fanno questo percorso Con degli tecnici Che noi abbiamo Che cosa consiste Questo percorso? La prima cosa È l'avvicinamento A questo animale A questo animale Di grossa mole Come avviene L'approccio Con questo animale Insomma Allora Per alcuni Viene direttamente È una cosa Che te c'è dentro Te vedi questi ragazzi Questi bambini O questi adulti Che si avvicinano Proprio loro Volontariamente La prima cosa È il tatto Il tatto Pulirlo Spazzolarlo Coccolarlo E poi da lì C'è alcuni Dici vuole Anche questo passaggio Un po' di più Non vengono forzati Perché hanno delle tempistiche Ognuno Diverse Diverse Logicamente E poi da lì Si sale a cavallo Si sale a cavallo E con questi istruttori Fanno dei percorsi Dei percorsi Proprio in campo E partecipano anche A delle gare Dele gare A loro riservate Che si chiamano Special Olympics Che vengono fatti A livello Senti Tu che supervisioni Un po' questo Che emozioni ti danno Questi ragazzi Vederli Approcciarsi al cavallo È bellissimo È bellissimo Perché loro Già quando arrivano E scendono Dalla macchina O dal pulmino Che le portano Già un sorriso Sono contentissimi Ti chiedono Oggi che facciamo Chi montiamo Quale cavallo Tiriamo fuori E questo qui arriva Arriva noi Che siamo da quest'altra parte E ci dà la soddisfazione vera La soddisfazione Quella Quella Proprio Quella S Grande Alberto Tu fai anche gare E prima Mettendoci un po' D'accordo Sull'intervista Mi hai detto Che c'hai una cosa In comune Con il Golf Club Hai iniziato Ad andare a cavallo Al Golf Club Quello che ancora Forse non era Il Golf Club Sì Quando ho iniziato io 35 anni fa Ho iniziato proprio qui Accanto Al Club IPQS Secco Che era Allora una struttura All'avanguardia Nella nostra zona Perché non c'era Nessun maneggio Che aveva già Un maneggio coperto Anche seppur piccolo Qui c'era un maneggio coperto Era una cosa importante C'erano tanti cavalli C'era un istruttore inglese Che purtroppo Ora è scomparso Non c'è più Che mi ha insegnato Tanto Tanto E C'erano tanta gente Venivano anche Dalla zona di Arezzo Venivano dalla zona di Perugia Tutti a montare qui Perché erano decenti All'avanguardia Hanno iniziato proprio qui E quindi Da qui è iniziata Un po' la tua carriera Sì da qui è iniziata La mia carriera E Ho iniziato A montare cavalli giovani E poi mi sono spostato Un po' al nord Un anno Un anno e mezzo Sono stato al nord Poi Sono partito militare Ho fatto il militare Nel gruppo sportivo A Roma A Montelibretti E poi da lì Sono tornato Volevano che rimanessi lì Però Sono tornato In Val di Chiana Giustamente E qui c'erano Tanti allevamenti Val di Chiana nel cuore Nel cuore Tanti allevamenti E c'era veramente Tanto lavoro Tanto lavoro Con i cavalli giovani Io domavo cavalli Le portavo fuori in gara E si vendevano A cavalli di 6-7 anni E si girava tutta l'Italia Anche all'estero Poi purtroppo Con la crisi Che c'è stata Una decina di anni fa A 12 E gli allevamenti Sono calati Sono calati i cavalli E ci siamo buttati C'avevo tanta richiesta Di persone Che non venivano A lezioni da me Vogliono imparare E ci siamo buttati In quest'altra attività Insomma Che è cambiata un po' Anche ora Seguo molto i cavalli giovani Ho sempre diversi cavalli giovani A scuderia Anche la settimana passata Siamo andati a Rezzo Che c'è un centro Ippico importante Abbiamo con i cavalli giovani Abbiamo anche dei 10 cavalli Che sono andati bene Si fanno un percorso Di qualificazione Per i finali Dei campionati italiani E poi Abbiamo dei cavalli Che saltano le gare Più grosse Già cavalli maturi Che un po' Sono del centro Ippico Un po' Sono miei in società Con altre persone Insomma Con cui io faccio gare A livello sia nazionale Che internazionale E usciamo in concorso Quasi tutte le settimane In più ci sono dei ragazzi Che montano insieme Che montano con me Mi seguono nelle gare Montano chi il proprio cavallo E abbiamo anche dei ragazzini Che è una ragazzina Che monta da noi 15 giorni fa Ha vinto il campionato Toscano Poni Qui a Rezzo E una è arrivata terza Vanno bene Insomma Speriamo che Vadano avanti bene Anche loro Senti Che preparazione c'è Dietro ad un concorso Salta ostacoli Perché noi vediamo Questi concorsi Che ci affascinano Vedere questi cavalli Che saltano Questi ostacoli In posti meravigliosi Che preparazione c'è? La preparazione è importantissima Perché sono atleti veri e propri I nostri cavalli E per questo vanno trattati come atleti C'è una preparazione fisica Che è fondamentale Alla base di tutto E in più una preparazione anche mentale Perché è importante Sia per il cavallo Che per chi monta La freddezza Quando scende in campo Perché in un minuto di gara Ti giochi quello Che hai lavorato Per un anno Di tutta la stagione Perciò la freddezza È la cosa principale E poi questi cavalli Devono essere addestrati Nel modo giusto Per quello che devono fare Insomma Ognuno ha le sue problematiche Hanno dei caratteri Sono animali E perciò ognuno ha il suo carattere Ha le sue paure Ha i suoi dubbi Perplessità Certo I suoi Uno deve eseguire Un tipo di preparazione In un certo modo In un altro modo Cavalli più caldi Cavalli più freddi È difficile È difficile Ecco Moira Quanto appunto Lui ha già detto Che è difficile Entrare in empatia Con il cavallo Quanto lavoro C'è Quanto serve Quanto tempo serve Per entrare Perché il cavallo Si fidi di te E ovviamente te Fidarti del cavallo Perché comunque Sono sempre animali Particolari E imponenti E imponenti Con una bella mole Ci vuole Ci vuole C'è un lavoro dietro Loro sentono La tua titubanza E la tua paura L'avvicinamento È fondamentale Su questo qui Se te arrivi E hai già Paura O qualcosa Lui si mette Un po' Fermo Con le orecchie Un po' rite E dice Ora che mi succede Sento che questa persona È strana accanto a me Cioè loro hanno Questa sensibilità C'è sempre un percorso Da fare Non si può Avere tutto E subito E non bisogna essere Nemmeno Diretti Troppo diretti Insomma Ci sono dei passi Da seguire Ecco E ovviamente Tu che comunque sia Monti questi cavalli Quali sono i passi Da seguire? La preparazione Possiamo chiamarvi Fantini Possiamo chiamarvi così Voi Come vi preparate Alla gara Al di là Dell'allenamento fisico Proprio mentalmente Mentalmente È una preparazione importante Che All'inizio Quando scendi in campo Le prime volte Come Da quando inizi il percorso Alla fine Non respiri Io vedo questi ragazzi Che iniziano Partono Alla fine Non respirano Ci sono tre notti Quattro notti Che non dormono E così Poi Quando ti passa Quello lì Allora inizi a lavorare Per davvero Insomma Però ci vuole un po' di tempo Ci vogliono anni Non è che da subito Parti così Io Parto in gara Mediamente ogni anno Facciamo di solito 18-20 concorsi all'anno E monto 5-6 cavalli ogni volta Per tre giorni Sicché Le volte sono tante Alla fine Ti abitui Però sempre Quel minimo di adrenalina Ce l'hai dentro Però Devi cercare di tenere la calma Perché Lei è la calma È la cosa fondamentale Sul lavoro Sul nostro lavoro La calma È una cosa fondamentale E ai bambini Prima di andare in gara Tu cosa dici? Quali consigli? Io cerco di farli ridere E scherzare E di non fargli sentire La gara Insomma Anche se è complicato Perché anche i genitori stessi Delle volte Sono loro che caricano Più acidati Del bambino Magari Però Insomma I bambini È meno complicata Quando ci sono gli adulti Che iniziano già da adulti È molto più complicata Sì 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 Sia per il bambino Recepisce molto la svelta L'insegnamento E fa subito quello che gli chiedi L'adulto è più complicato Anche nel metterlo in cella Perché c'è già Magari parte Già Il bambino È più istintivo Certo A meno paure È molto più Moira Il progetto di ipoterapia Si è chiuso adesso a giugno Sì Il prossimo anno Ovviamente Ora a settembre Ora a settembre si riparte Perché loro hanno un ciclo Di tre mesi in tre mesi Partiamo a settembre Con l'inizio della scuola Più o meno Finiamo Poco prima di Natale Ripartiamo Perché nel periodo invernale Questi bambini Insomma sono soggetti Sono più delicati Allora stoppiamo Perché il freddo Le temperature basse Insomma è meglio evitare Complicanze Si riparte a marzo E si finisce con la mega festa Che c'è stata proprio ora Il 14 giugno Viste e presti Noi proprio Sì 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 Per il giardino Verdicano E questo va avanti E spero che vada avanti E spero di Perché comunque è una realtà Importante Importante E che Io come mo Cioè noi come centro Ci mettiamo Tutto il nostro E spero che chi è Con noi Insomma sia Rotary Che Usle Che tutti quanti Insomma sindaci Della zona Ci diano sempre Questo grande supporto Che ci hanno dato Finora E che ringrazio Allora Grazie Moira Grazie Alberto Per esserci venuti qua A trovare Che poi vedi Abbiamo scoperto Che le storie Si incrociano Qua al Golf Club Valdichiana Grazie di essere venuti Qua al Giardino Valdichiana Grazie a voi Di essere stati con noi Io vi do appuntamento A venerdì prossimo Più o meno Ore 18 Con la mia bellissima Lezione di golf Continuate a seguire La Valdichiana Per rimanere sempre Aggiornati Su quello che accade Nella Valdichiana E altrove Grazie a tutti Ciao Buon fine settimana Grazie a tutti